Bene, bene no. L'esplorazione è andata malissimo. Sì, dovevamo andare a fare un'esplorazione semi-notturna perché era il tramonto. Era già buio. Era già buio. La nostra prima esplorazione, fra l'altro, in notturna, vincendo le nostre paure. Abbiamo trovato tutto sigillato, murato. Sì, brutta sorpresa. Avevamo individuato... C'erano i muratori che mettevano solo su quelle ammalte e mattone. Dove? No. Sì, sì, sì. No, quelli non li abbiamo visti. Però gli ingressi non sono più accessibili, per ora. Dunque... Cambiato problema. Mica possiamo tornare a casa così, con una delusione. Cosa facciamo? Abbiamo tutta l'attrezzatura, tutto quanto. Cosa facciamo? Abbiamo deciso, ma perché non fare... No? Facciamolo anche noi in Startup Urbex, no? Quindi la nostra challenge... La challenge degli unici miglia. Fra l'altro, noi sempre accompagnati... Little... Vieni. Vieni. Fatti vedere. Ciao. 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 La nostra Little Joyce, la vedete? Che bellina. Anche lei ci accompagnerà in questa nostra challenge. Adesso sta dietro qua. È sicuro. Ripetiamo le regole di questa challenge. Vai. Bisogna percorrere un tratto di strada di notte. Tipo... Cosa sono? Diciasette chilometri. Sì. Un dici miglia sono diciassette chilometri e sette più o meno. Non ricordo. Non più di cinquanta all'ora. La macchina non deve superare cinquanta all'ora. Trenta miglia orari. Sarà difficilissimo. Non si possono abbassare i finestrini. Non si può... Spegnere il motore. Spegnere il motore. Dunque qualsiasi cosa succede ti puoi fermare ma non puoi spegnere il motore. L'auto sta prendendo fuoco non si può spegnere il motore. No. No. Abbandoniamo l'auto senza spegnere il motore. Eh sì. Dopo se... Man mano che si percorrono queste miglia no? All'inizio magari non succede niente. Poi in teoria... Dovrebbe succedere qualsiasi cosa. Dicono che... Nelle prime tre miglia non dovrebbe accadere nulla. Se dovesse accadere qualcosa accade dopo il terzo miglio. Vediamo che cosa capita. Man mano che sia avanti. Sì sì sì. Se tutto va bene... Siamo saldi. Torniamo a casa. Siamo saldi. Se non va bene... Ciao. 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 Comunque al fine se si riesce a superare la sfida si dice che si può esprimere un desiderio. Sì si può esprimere il desiderio e il desiderio sicuramente sia vero. Sicuramente sia vero. Adesso andiamo a scegliere la strada perché non è che uno così prende e dice... Dobbiamo sentire che la strada è quella. Sì quando si inizia dovremo pervasi di un qualcosa che ci dà questa è la tua strada. Da qua inizia la scena è la tua sfida. Comunque io direi di mettere un like sulla fiducia no? Sulla fiducia. Prima ancora di vedere cosa succederà. Meglio. Se volete iscrivetevi anche al canale che ci serve il supporto. Siamo una... Una... Una start up emergente diciamo. Like. Visto che abbiamo tutti due la maglia. Fa vedere. Ce l'ho anch'io. Ecco sì. Non sono più povera. No no adesso l'ho fatta anche per lei. Sì. Joy se tu senti qualcosa faccelo sapere. Fai un abbaia oppure un lecchino o qualcosa insomma. Allora. Abbiamo girato per questa strada. E lei. E lei. Tra l'altra siamo sbucati come potete vedere davanti a una specie di cappelletta. Sì. Da un lato. Vedete quella santa madonna dentro. Sì. E dall'altra c'è un cimitero che forse adesso non vedrete. Quindi adesso la regola dice che si accende la macchina adesso. La faccio partire eh. Sì. A zero e contachilometri. Sì. Ok. Andiamo. Attenzione c'è. Questa qua è una bella strada buietta. Guarda che roba oh. Allora è la strada più buia. Madonna. Questa è una strada proprio... Non si deve niente. Sì. Nulla. Vabbè. Oddio. C'è qualche... Ah no è una foglia. Una foglia. Allora inizio a vedere tutto eh. Sì. Amamo che vediamo qualche lepre o qualcosa. Mi sento bella. Un cinghiale. Un cinghialetto. Una boiana. Ci sono dei boiani. Ci saranno. Non ci sono gli avvoltoi. Quelli no. Tuoi ci sei? Silenziosa. Silenziosa. Non percepisce nulla. Gioves. No. Gioves sono i nostri bastoncini. Come si chiamano i bastoncini? Pindus. No Pindus. Dai quelli che fai così. Quelli che devi trovare là. Ah quelli del raccomandante. Lei è così. Lei sente quando percepisce qualcosa. Abbiamo appena iniziato il secondo miglio eh. Te lo dico. Di già. Sì. No. È stato il secondo miglio. Un chilometro e otto. Quindi secondo miglio. Ok. Sì. Questa qua. È sinistra. Sì. Questo è un presagio. Un presagio. Sì. Un presagio di qualcosa. Come vedete è pieno di gente che cammina e queste cittadine spardute. Sperdute possiamo dire dove stiamo. Nella... Stiamo tornando indietro. Troppo morto. Hai visto? Ma cos'è? Qua si può andare. Non è segnata lì? Non è segnata lì? Scusami. Cos'è quella roba lì? È una... Ma... Una... Altarini. Io non vado di là perché c'è stata. No, no. È sterrata. Non l'hai mai vista? No. Ma che impressionante eh. Vi dico siamo nel quarto miglio eh. Va. Ecco. Dovrebbe iniziare. Ma quindi quella madonnina lì? Cioè eravamo già nel terzo miglio noi che l'abbiamo vista. Sì. Certo. Io non l'ho mai vista quella roba lì? Non mi spiego perché la mia macchina dove mette gli abbaglianti automaticamente. Questa strada qua, no? Invece non li mette. Tipo se spengo... Come spegne? Non li spegne neanche. Cioè io potrei spegnere i farli. Ma non li spegne. O la madonna. Ma così... Così è auto. Ma io potrei anche spegnere. Ma non li spegne. No. Non li spegne più. Adesso si è svegliato. Adesso metti gli abbaglianti da solio. Eh. Si è svegliato improvvisamente. Come se i sensori fossero impazziti. Sì. Ecco questo posto qua. Un giardinetto. Che idea. Cos'è una bella cosa? Mi sembriamo delle persone. Non so se sono che tagliati sono. Mi sembriamo delle figure muane di giuro. Dei piccoli... Dei gnome. Dei gnome. Ammetti? Ma cosa facciamo qua? Qua ci viene il cinghiale fuori veramente. Ma no vabbè. Ma dai. Ok siamo... C'è una luce. Mh. E' un paesetto. Un paesino. Che non ho idea. Un paesino fantasma. Perché non c'è rima viva. Non so dove siamo. Tutti sentono freddo e stranamente sento caldo. Pure io. Sbassiamo. E poi sbassare. Sì. Non è una regola. Sono 22 gradi e... Sì ma io... Cioè prima non sentivo caldo. E' semplicemente caldo. Anch'io. No dai. Starrata. Creschiamo. Eh ci ha chiamato qua però eh. Eh andiamo dai. Poi prendiamo via del corno. Tanto l'auto è sporca. No. Ma almeno quella è stata un pochettino più... Piatta. Non ci sono buche come prima. Aspetta. Le ultime parole famose. Le voran argine. Dove sono? Le volpi. Le lepre. Le lepre fiuliane. Dove sono? Dove sono? Guarda che buche qua. Bananna. Eh dove? Cazzo. Ma che ci fa? Una palla eh. Una palla eh. No dai. Che ci fa una palla? No dai. Una palla da in mezzo. Ma la prendiamo? Ma la prendiamo? Lasciamo lì. Dove la prendo? Dove vanno? No. Non prenderla? Scusate. Non c'è una casa. Non c'è nulla. Ma forse qualche bambino di... Ma ci passi sopra? Eh che cosa fai? Io non voglio mica toccarla quella quale. E poi adesso torniamo. No. Ma io non la prendo quella. Non la prendo. Cioè. Sarà di qualche bambino dei contadini che giocano. E' un italiano. Lo so. Ma. Contadini che giocano. Ma i figli. Non lo so. Finalmente abbiamo trovato una strada scartata. Sì. Siamo tornati nella civiltà. Però. In chiesa. Non abbiamo mai visto neanche una persona. No. Zero. Ma neanche una macchina. Credo che eravamo prima nelle strade dei campi. Ma adesso che siamo qua. Cioè. Fa ansia però. Perché ci sono le zonzarette? Sono le mosche. Le mosche di satana. Eeeh. Adesso. Beh il Zebu è il signore delle mosche. Eh sì. Lo so. Lo so. Ci sono entrate. La donna. Andate a serrata. No. Non è una serrata. E via Caporetto. L'ha disfatta. Allora. Siamo. 11 km. Che voglio dire. Siamo nel. Settima miglia. Solo. E dove va sta roba. Guarda dove va finire. Cioè è possibile. No 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 no. Andiamo indietro. Andiamo indietro. Sì. Andiamo indietro. E via Caporetto lo disfatto. Non c'avrà. No no no. Non c'è l'ha sterrata. E' valido fare la retromarcia nella challenge. Non lo so. Vabbè insomma non c'è la regola. Non si può fare la retromarcia. Piccola. che piccolina lei sta facendo caccia caccia no non è tanto piccolo è un cimitero e la la non ti hai chiamato dei cimiteri si si guarda che c'è un lumino dentro sarà un cimitero sembra si 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 guarda ci sono i cipressi si 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 è buio no ma ti aspetta tu ti accendila scusa si può accendere un timer che dopo tanto tempo si spegne a prescindere ma cosa la luce tipo non so se si è accesa a tanto tempo e lui la spegne non so non è successo perché non mi ha mai tenuto accesa così tanto tempo però sembra strada proprio subito dopo il cimitero che caso ma so solo che sterrate guarda le tue parti no guarda che roba c'è tanto che sta adesso come vengi il giro e anche il cane adesso scusami che paura che mi ha fatto il cane eh si scusami nina è nino è lui nino è un nino questo è nino ma guarda ma guarda ma guarda che è incredibile scusa adesso c'erano tutti i padroni che fucile guarda qua non scherzano la mica ma gli piaceva a Joyce finisce così il nostro rituale lo voleva eh lo voleva Joyce era un bel tipo era un bel tipo ti piaceva Joyce era bello Joyce si senti senti come le voleva è vero bellissimo dobbiamo tornare lì sei innamorata sei innamorata dritto no dritto verrà sicuramente quella dietro ma non sinistra e ora andiamo a destra a sinistra a destra e vediamo questa parata a sinistra non c'è a destra si è stata stradata a sinistra non c'è una strada questo è serio c'è una strada di sinistra porca miseria no ma non c'era un tombino no ti giuro che io quelli là non l'avevo visto prima veramente neanche io mi spacco le gomme adesso come tocca tornare indietro di nuovo che roba faticente è? non lo so c'è l'entra raccolta dei rifiuti e scovazzare no come si dice la discarica la discarica siamo finiti nella discarica però io prima non ho sentito cioè non lo vedevo il tombino l'ho visto ho visto che c'era una piccola gobbetta ma non sembrava una roba così grande da far saltare così la strada cioè la strada è? adesso troviamo un cambio delle scovazze ti immagini quello che porta le spazzature e a quest'ora no non credo no non vedo ancora che rumore è stato? sembrava come acqua non c'è acqua sembrava sì sembrava che tu avessi acqua plana adesso? che ne so aspetta no e adesso prova ma sarà umana ma meglio che puoi tornare indietro ma senti che rumore come se ci fosse acqua sì c'è acqua quando si va su una pozzangra si fa l'effetto scia sì la destra la destra sì non c'era le macchine però libertà c'era scritta libertà libertà cioè per te era libertà che senso ha? c'era una frezza libertà ti giuro non l'hai visto tu? no e dove andava? e le indicava qua ci prendiamo le libertà? sì ma hai visto io su una strada scritta libertà non so dov'è porta no ma mi piace mi piace questa strada chiusa sarà chiusa ma no mi giuro ma tu ti rendi conto che è la seconda razza un altro cane un altro cane c'è un déjà vu un déjà vu il Joyce guarda ti giuro c'è uguale la prima stessa curva che grosso un cane enorme vai vai ecco là di nuovo ti piaceva anche questo Joyce? eh ma vai Joyce però uguale come prima strada sfondo cieco col cane sì e noi ci tocca fare l'inversione sì c'è la seconda eh devo vedere cosa significa presaggi cani strada sfondo cieco e poi giochiamo all'otto ti piaceva tanto Giorgio era tanto carino sentila sentila amore così c'è un piccolino qua però se non lo metto andiamo sulle tre strade tomba proprio si chiama ah sì giusto è vero ma tomba sì 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 è il paese che si chiama tomba in realtà doveva essere libertà invece tomba appunto siamo al decimo meglio passiamo per iniziare l'undicesimo a 16 km punto uno inizieremo l'undicesimo migliore allora possiamo andare a destra no vedrai dritto dai sì ok no un'altra strada sterrata no ma doveva scrivere iniziare strada sterrata infatti ok oh unicesimo migliore è iniziata adesso l'ultimo ancora ancora sulla porta sono dentro così è stato scusa è preso no mi ha la strada mamma mia eh mamma guarda dai giro 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 sì non puntiamo lì fuori come è questa roba oddio come sono quanti agricoli cannetto che bello cioè manca nulla ormai manca nulla vabbè ci è andata bene ed è mezzanotte abbiamo iniziato l'unicesimo miglio è scoccata è scoccata da mezzanotte incredibile loro delle streghe cioè riuscire cambiando i percorsi che ho fatto arrivare a mezzanotte proprio la decisione miglio non è che farla apposta dove cavolo siamo sono sempre a tomba non ho idea non usciremo mai da tomba non lo so ci porterà ci porterà nella e anche no sono stato bravissimo a superare il limite perché per me cioè stare dentro 50 alle ore è uno sforzo disumano sono mai fatto cioè senti come soffre la macchina non è abituata dire ma cosa sta succedendo qua oddio allora ci dice 11 km su 5 ci mancano 200 metri 200 metri sinistra allora eh sì andiamo a sinistra cos'è una roba più lunga in mezzo al lungo è vero? si può arrivare lì ma un'altra stadina andiamo per la stadina qui? ma è starata pure questa eh vabbè andiamo? sì via via argiliaris comunque sopra ma cos'è una roba lì? ma è un video citofono ma una roba del genere ma è blu tipo perché io non so cos'è quella roba impressionante pipistrelle hai visto? sì una notte le streghe guarda mancano 100 metri abbiamo finito dai ti giuro ti giuro cosa sta roba qua? no abbiamo finito che qua niente finito? e basta finito così qui? finito qui finito qui con allora il mio tontò segnala la strada finita eh cioè si può vedere anche ma ti è vero? guardiamo guardate si vede io qua ma ti è vero? la strada è finita anche se è verità c'è una strada di campo forse gira lì è finita? no no è finita è finita guarda non c'è più niente qua infatti dicono che dovrebbe finire la strada una strada chiusa comunque qualcosa sì allora io direi per fare la conclusione spostiamoci da qua perché io non so bene ci sia qualcuno che magari pensa che siamo roba sembra una cosa in costruzione tu dici però è meglio andare un po' solo siamo fermati qui per fare la conclusione ecco la nostra Little Joyce quella qua è un bacino basta allora cosa dire apriamo un po' i finestrini che è già fresco la palla è stata una roba la palla è stata una cosa veramente strana è stato di un bambino di qualche contadino che magari gioca nei campi chissà di io io la vedo abbastanza improbabile però ci può stare è stato che siamo finiti proprio cioè siamo finiti proprio precisi l'undicesimo miglio l'undicesimo miglio l'undicesimo miglio a 17 km di vassezze allora c'era una strada di campagna che magari andava anche avanti però a differenza di tutte le altre strade di campagna che il navigatore ce le segnava questa qua dove siamo fermati non la segnava più cioè non era considerata strada stranissimo come l'undicesimo miglio proprio a scoccare della mezzanotte che mi ha fatto la posta carino e le botte le botte non so nel senso se ho beccato qualcosa come il tombino lì che io l'ho visto sinceramente cioè ma ha fatto un salto non è che io ha fatto un salto ancora c'è ancora c'è Piccirilla è un po' tesa abbiamo fatto tutti i cimiteri tomba e paesi con i nomi ambigui un po' robe strane due cimiteri le mosche sono entrate non si sa come e adesso sono ancora qua dunque dunque visto che ho terminato la strada che non c'è più positivamente obiettivo centrato si può esprimere il desiderio noi lo esprimiamo no non si può dire e non fatelo non fate questo questo rituale un po' stupidino divertente si abbastanza o si può anche fare dipende con che atteggiamento lo si fa esatto esatto dunque vi vediamo la prossima ciao mettete un like anche se non vi è piaciuto lo stesso per simpatia e iscrivetevi al nostro canale ciao alzati di più sedile così sei più alta a destra e la levetta solita tu sei bella alta ma provati mettiti dietro non troppo alta più di me scusa ma poi io mi affosso per quello guarda che alta che hai sentito bene bene molto bene bene ora mi alzo anche un po' scusa no perché così se ne saltano forse 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 ci siamo ma io ma sta registrando chi l'ha messa aspetta adesso dobbiamo aspetta ti devi riprendere adesso dobbiamo stare seri come eravamo prima non so stiamo girando in lungo in alto stacola dritta 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 e poi incontra non so quanto lunga è per via il domone facciamola si facciamola stacchi e attacchi quando cazzo non lo vuoi vai per farmi capire a me quando monterò il video questo qua è il pezzo del rientro io sto per farti capire no perché se no non so non capisco più niente quelli di quelli di pezzi non è questo chiaramente possiamo scaricare i cavalli a terra ma anche no 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 vai piano lo stesso non è questo ero ben disposto cosa è io una volta si ma puoi dire ma tu non ci credi tu non ci credi sono uccidi questo lo scelicamo sai lo potrebbero trovato a prenderlo più oltre non riesco cosa può capitare che ti capita almeno ti vedi un animale insomma più di quelle che siamo andate nelle sperdute in cui potevamo pascolare le mucche anche tra quanti cambi di fare caporelle grazie